Oltre alla nuova gamma Ascend V, Huawei porta a Barcellona anche il MediaPad 10FHD. Come si inquisce dal nome, siamo di fronte a un tablet a 10 pollici con risoluzione Full HD, quindi 1920x1200 pixel. Lo schermo è un LCD IPS, quindi dovrebbe garantire una migliore qualità dei colori anche ad angolazioni un pochino più accentuate. Il sistema operativo chiaramente è Android in versione 4.0 Ice Cream Sandwich e il processore che si trova all'interno di questo MediaPad è lo stesso che ritroviamo anche nella linea Ascend V, quindi un quad core da 1.5 GHz. Il tablet sarà disponibile in varie versioni, Wi-Fi, 3G e anche LTE per i paesi che lo supportano e offrirà ovviamente anche connessione wifi, BGN e Bluetooth 3.0 oltre al GPS. C'è anche una doppia fotocamera, una frontale e una posteriore di cui però non si sanno ancora esattamente le specifiche, se non che quella posteriore sarà un 8 megapixel con autofocus e flash. Così come per gli Ascend V, anche questo MediaPad 10 FHD dovrebbe arrivare nel secondo quadrimestre dell'anno, ancora da decidere ovviamente in prezzo.